Noi portiamo in scena la commedia 2023 dal titolo Cum la gira la giri, manda sempre le donne. Ed è una commedia che gioca un po' sui luoghi comuni riferiti sia... Però me lo faccia dire, più che una commedia è la verità. Allora, noi giochiamo sui luoghi comuni riferiti sia alle donne, al genere femminile, che al genere maschile. Chiaramente sono le donne che parlano male degli uomini e viceversa. Però comanda loro. Sì, alla fine gli abbiamo dato un contentino mettendone nel titolo. Poi proprio giocherà a vedere la commedia per capire come si svolgerà la cosa. Sì, anche bello questo perché poi affrontare sempre il tema delle relazioni uomo-donna è molto stimolante. E crediamo che farlo col dialetto sia anche molto divertente. Certo, senza altro. Comunque non mancheranno i tradizionali colpi di scena, le situazioni paradossali, quali tradimenti. Quindi ci sarà veramente da ridere, due ore di spasso saranno. Perfetto, quindi 21 luglio, compagnia GAF, cum la giri, la giri, manda sempre le donne. Allora, chi si vuole divertire, chi vuole passare due ore veramente simpatiche, non può mancare il 21 luglio con il GAF, cum la giri, la giri, manda sempre le donne.